Valorizzare il patrimonio artistico in Italia è una grande sfida. La principale iniziativa sarebbe una mappatura dei beni artistici. Ci sono molti decenni, non solo anni, decenni che se ne parla. Non esiste una sorta di registro in Italia di tutto ciò che abbiamo e questo ha una ricaduta su strumenti molto più popolari come quelli che possono essere delle guide piuttosto che delle mappe. Insomma, bisognerebbe riuscire a fare una carta d'Italia dei nostri tesori. Abbiamo un'enormità di competenze richieste da un'enormità di esigenze. Abbiamo tanti ragazzi che si laurano in beni culturali, una laurea non meglio specificata. In realtà ci sono delle skill, delle abilità specifiche che vanno dallo schedare al fare dei siti navigabili anche da un utente non particolarmente a proprio agio con la tecnologia. Essere dei buoni restauratori, essere dei buoni archeologi, anche se archeologia non significa trovare sempre la tomba del re egizio. A volte significa trovare delle steli in lunigiana non particolarmente preziose, ma invece sì preziose perché noi italiani abbiamo una tale abbondanza di queste cose che tendiamo a non capire sempre quanto è importante quello che possiamo trovare anche solo in mezzo a una strada. Abbiamo quindi bisogno di una rosa e forse sarebbe bello definire la rosa di queste competenze e formare appunto dei ragazzi che sappiano dove andare a bussare e esattamente che cosa desidererebbero fare. Perché io ho l'impressione che le lauree in beni culturali, le lauree in archeologia, siano un po' uno sviluppo delle lauree in lettere o comunque delle lauree in humanities che danno una formazione molto ampia, ma che poi hanno bisogno di master o di qualcosa in più per essere veramente professionalizzanti. Ecco, forse c'è bisogno di capire quali master ci occorrono. Master è qualcosa che significa un anno di studi in più in fondo, non tanto, per arrivare dentro a una struttura ed essere veramente un punto di riferimento, qualcuno che sa fare le cose oltre che saperle dire o inquadrarle in termini di problema.